Aspettando il Natale, scivolando sul ghiaccio, imparando a muovere i primi passi sui pattini e divertendosi con gli amici in una pista di pattinaggio grandissima, anzi sulla pista di pattinaggio più grande delle marche. È iniziato il countdown per le feste di Natale e al Paradise Play Center di Monzano la festa è sul ghiaccio, unica pista di pattinaggio della Vallesina, unica indoor delle marche del centro Italia, attira centinaia di appassionati di sportivi e di neofeti un po' da tutta la regione e non solo. Sì perché al Max Impianto Indoor possono accedere sia ai principianti sia a chi è già al primo livello per divertirsi, allenarsi e percorsi di perfezionamento. Al Paradise è tradizione pattinare sul ghiaccio, per la vostra famiglia è un grosso investimento anche perché è la pista indoor più grande delle marche del centro Italia. Sì assolutamente, è l'unica pista indoor delle marche, l'unico palaghiaccio, dal 1989 che diciamo è aperto questo palaghiaccio e appunto ogni anno apriamo da ottobre a marzo. Quali servizi offrite oltre al pattinare sul ghiaccio? Oltre al pattinaggio il Paradise è un grandissimo play center, appunto anche questo è il più grande delle marche, con bowling, sala giochi, parco giochi per i bambini, escape room, soft air e per non dimenticare comunque il bar e il ristorante che sono degli ottimi diciamo momenti per riprendersi dopo una bella pattinata. Quindi chi viene a pattinare può tranquillamente uscire, rientrare, fare una pausa? Sì assolutamente, uno diciamo dei vantaggi principali della nostra pista è che con il biglietto giornaliero si può entrare e uscire quante volte si vuole, basta riconsegnare i pattini, viene fatto un timbro, si può andare al bar, prendere un caffè, una cioccolata calda o fermarsi a cena e poi rientrare dopo. Parlavamo di investimenti, investimenti anche sulla qualità e sulla sicurezza del ghiaccio. Sì assolutamente, proprio quest'anno abbiamo cambiato il compressore, abbiamo cambiato tutte le serpentine, tutto l'impianto per due motivi, appunto per garantire un miglior ghiaccio per i nostri clienti e non da ultimo quello dell'efficientamento energetico che attualmente la tecnologia sicuramente permette un risparmio e l'ambiente oggi è importantissimo da rispettare. E alla pista del Paradise, nei giorni scorsi per la gioia dei bambini, sono anche arrivati i supereroi Marvel e le principesse Disney, un inizio in grande stile per il periodo più magico dell'anno e sono in programma tante iniziative fino a Capodanno. Siamo vicini a Natale, quindi oltre all'inaugurazione della pista c'è qualche iniziativa che bolle in pentola? Sì assolutamente, partiamo dal 17 dicembre con l'arrivo di Babbo Natale, poi tutti i giorni diciamo dalle festività, appunto dal 22 dicembre al 6 gennaio saremo aperti tutti i giorni dalle 15, anche la pista di pattinaggio, il grande cenone di Capodanno come diciamo di consueto e per finire la festa dell'Epifania. La pista di pattinaggio su ghiaccio essendo al coperto può essere utilizzata con ogni condizione La situazione climatica è aperta da giovedì a domenica, specie nei festivi e prefestivi dal primo pomeriggio fino all'1.30 di notte per un divertimento senza fine. Spogliatoio e tribune sono riscaldati per venire incontro anche agli spettatori per chi il freddo e il ghiaccio li ama solo da lontano. Tante le possibilità di divertirsi con agevolazioni, sconti e promo per tutta la famiglia, biglietti unici per trascorrere l'intera giornata al Paradise facendo la spola tra le varie attrazioni e giochi. Qui al Paradise possono venire a pattinare sia i neofiti sia chi è già a un primo livello. Assolutamente sì, questo tipo di disciplina è aperta a tutti, dai ragazzini di 4 anni ai persone più su con l'età, anche 60 anni che hanno provato nel tempo l'esperienza del pattinaggio, assolutamente sì. Questa è un'attività che noi svolgiamo in completa sicurezza nella giornata del venerdì dalle 18 alle 19.30. Il Paradise è il luogo ideale per bambini, famiglie e ragazzi per trascorrere del tempo all'insegna del divertimento e del buon cibo e quindi vi aspettiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.